questa serata e anche quindi della passione che hanno i produttori di pasta e anche di grano la passione fa parte del nostro territorio, io questo vedo e questo respiro stasera quindi sono molto onorata di aver fatto parte di questa serata e di questa bella esperienza passo la parola, quindi non so a chi dovrà dare il premio allora, ripeto, abbiamo veramente avuto grosse difficoltà a individuare qualcuno che avesse qualcosina un po' più dell'altro però comunque ci siamo riusciti, allora, tutte sono ex equo, le quattro aziende tra le ex equo, quella che ha avuto il merito di avere qualcosa in più è l'azienda agricola di Pumbo, un applauso vabbè, coincide poi che è anche un'azienda di Pumbo Maggiore, la cosa ci fa ancora però, ripeto, allora, Grano Mischio, ecco qui, grazie, un applauso all'azienda Grano Mischio io vi ringrazio della partecipazione e del calore siamo stati molto contenti di partecipare a questo evento e vi ringraziamo perché voi siete stati sicuramente protagonisti la nostra pasta, appunto, è stata una pasta che ha avuto un ottimo successo abbiamo sentito giudizi tutti favorevoli da parte delle persone che hanno avuto modo di assaggiare la nostra pasta è una pasta un po' particolare, è una pasta integrale a tutto corpo con delle caratteristiche del grano, di grani pigmentati quindi un grano originale rispetto agli altri e quindi la cosa importante per noi era partecipare e farci conoscere vi ringraziamo tanto grazie a te, grazie a te allora adesso l'altro exequo è Consorzio Terre di Biccari spiegaci un po' sinteticamente la tua pasta buonasera a tutti la nostra pasta è una pasta semplice deriva da quello che è la produzione locale del strumento duro è fatta con tanta passione e con tanto amore da noi amici del Consorzio Terre di Biccari e poi c'è stata la maestranza dello chef che ha dato il meglio di sé e quindi è stata apprezzata dalla gente grazie ancora per aver partecipato abbiamo adesso Sapori dei Colli di Candela che a differenza della pasta è una pasta ripiena con diversi gusti grazie, buonasera a tutti sono contento di aver partecipato a questa splendida serata in mezzo a voi spero di avervi sorpreso con questa pasta ripiena cucinata in strada sono fiducioso della pasta come cultura alimentare è un piatto veloce grazie, buonasera a tutti